Eccoci di nuovo assieme, voltiamo pagina, cambiamo argomento. Come vedete non sono solo, ma sono in compagnia di due chef. Sono in compagnia di Mario Ferrara, che è chef dello scaccomatto di Bologna, ma in questo caso, questa sera, anche vicepresidente dell'associazione Tortland. Dall'altra parte invece sono con Francesco Carboni. Buonasera, chef dell'acquapazza di Bologna. Perché sono qui con me? Perché da pochissime ore, devo dire, ieri sera si è conclusa la seconda edizione di una sfida dedicata al Tortellino. Un confronto benevole e piacevole fra le città di Modena e Bologna per stabilire in un qualche modo quale sia il Tortellino migliore. Vediamo già delle immagini della serata di ieri sera. Allora, Mario Ferrara, vicepresidente dell'associazione Tortland. Queste sono le immagini. Tu eri presente ieri sera. Che cosa è accaduto nella serata di ieri per questa bella festa del Tortellino? Beh, hai detto bene tu, una bella, non bella, bellissima festa dove c'era il confronto finale dopo le primarie con i ragazzi e amici di Modena. Come è andata? Beh, si vede un po' le fatiche. È stato molto pesante organizzare tutto, ma l'impegno ha fatto sì che tutto riuscisse molto bene. Siamo veramente molto soddisfatti. Raccontiamo che tipo di sfida era da un punto di vista tecnico. Insomma, su che cosa questi chef si confrontavano? Beh, la sfida era una parola giornalistica che piace molto al giornalista. Certo, a noi piace molto, devo essere sincero. Piace molto anche al pubblico, ma per noi è solamente un confronto. Un confronto per ore con gli amici di Modena e un confronto per la crescita nostra, professionale, soprattutto per un territorio. Su che cosa si sono confrontati gli chef? Ma gli chef si sono confrontati sul, diciamo, sul re dei piatti... Da cui prende il nome anche l'associazione. Esattamente, che è il tortellino, il tortellino classico in brodo. Certo. Poi stavamo appunto vedendo il piatto di Francesco Carboni sul tortellino reinterpretato. Reinterpretato, quindi c'era una sfida sul brodo, quindi sul tradizionale. Esatto. Sull'innovativo reinterpretato. E poi su un tortellone e su una lasagna. Tortellone e lasagna. Allora, diciamolo subito perché il tortellino, la vittoria del tortellino è andata anche quest'anno e per la seconda volta la giuria era diversa. I votanti erano diversi, però la vincitrice è la stessa. Stiamo parlando di Lucia Antonelli, del ristorante Il Cacciatore, vicino alle porte di Bologna, che per il secondo anno ha vinto... Si conferma, si conferma la regina del tortellino. Forse la sfida, quella più tradizionale sul tortellino, quella su cui si fonda anche l'associazione, l'ha vinta lei. Lei era molto contenta ieri sera. Allora, c'erano anche le nostre telecamere. Vi vorrei anche a voi fare sentire la battuta di Lucia che cosa ha detto subito dopo la vittoria. La possiamo ascoltare assieme. Faccio tortellini dalla mattina alla sera, ormai è la mia croce, però mi dovrò abituare a continuare a fare tortellini. Spero li farò ancora tanti altri, per tutti voi e per tutti i miei clienti. Grazie a voi. Insomma, ha detto che il tortellino è la sua croce, ma mi sembrava molto soddisfatta di questa... Lucia è un esempio per tutti noi e come dire, il gruppo veramente serve a crescere tutti insieme. Il fatto di mettersi in gioco e di confrontarsi per noi è un grande momento appunto di crescita professionale, oltre a stringere molto più anche i rapporti di amicizia. Senz'altro, questo si respira anche dal clima. Se si viene a trovarvi in queste serate si scopre come in realtà siete una brigata grandissima di amici che si diverte, si fa battute, battutacce, insomma siete molto divertiti in queste... e affaticati. Devo dire che i giornalisti, voi i giornalisti avete avuto la fortuna di starci vicino, diciamo dietro le quinte, siete testimoni del fatto dell'unità che c'è, della collaborazione che c'è. E questa è la strada giusta appunto per andare avanti e per crescere. Ma noi non abbiamo solo il vincitore del tortellino tradizionale. Uno potrebbe dire, ok, sì, il tortellino tradizionale si fa, ci sono delle regole e tutto quanto, ma credo che è ancora più complicato, tornerai in studio con le immagini, perché credo che è ancora più complicato sia reinterpretare un prodotto che è assolutamente di per sé equilibrato e perfetto, che è il tortellino. Quindi abbiamo al mio fianco Francesco Carboni, chef dell'Acquapazza di Bologna, che ha vinto ieri sera invece il tortellino cosiddetto reinterpretato o reinventato. Che cosa vuol dire reinterpretare il tortellino? Beh, mantenere la tradizione di quello che è il tortellino vero, quindi la chiusura e la sfoglia tirata a mattarello, quindi un tortellino che rimane della giusta misura, quindi non eccessivamente grande, e creare all'interno un ripieno che in questo caso può essere, nel mio caso è un ripieno di pesce. Io in questo momento cucino pesce, mi è sembrato giusto essere coerente con quello che io faccio, con quello che io propongo alla mia clientela, quindi ho fatto un tortellino di pesce, che è un tortellino di razza, acciuga, mozzarella di bufala, e delle scorze all'interno di limone, di nostra, diciamo, naturale. Questo tortellino è stato chiuso perfettamente da delle sfogline professionali, professionistiche al massimo, questo infatti che vedete è proprio mio. Era il suo infatti. E su questo ci tengo molto, perché se si vuole, cioè da esternamente sembra quasi un tortellino, un tortellino classico. È saltato con una crema di burro tartufo, con dei fiori di broccolo e una salsina di cima di rapa. Questo per dare, chiaramente, completare quello che potrebbe essere per noi cuochi, un cerchio del gusto, che è il dolce, il salato, l'acido, quindi noi dobbiamo sempre cercare che quello che noi mangiamo, quello che noi assaporiamo, abbia una completezza. Insomma, quanto ci ha messo a inventarlo? Diverse prove? È venuto, è uscito bene subito? So che anche su questo voi siete molto impegnati. Non è facile, qui con me c'è Mario, che ha fatto anche lui un strepitoso tortellino, quindi forse più di altri mi può capire cosa vuol dire reinventare la tradizione e trovare un equilibrio che poi dopo devi avere anche un po' di fortuna, perché non sono piatti che noi facciamo comunemente tutti i giorni, quindi è un gioco, una sfida che noi abbiamo, ci mettiamo in un certo arco di tempo a gestire questa ricetta, è molto intuitiva, devo essere sincero, perché essendo creativo è per forza molto intuitivo. Lo si potrà assaggiare ancora nel suo ristorante? Nel mio ristorante e il menù da domani sarà in carta, non per un lungo tempo, anche se verrà leggermente modificato, in quanto adesso avremo un tartufo diverso e io voglio sempre lasciarlo col tartufo, anche se il tartufo non è poi così invadente come la gente crede, infatti qualcuno sembrava quasi che mi dicesse, ah ma col tartufo è tutto molto più semplice, in realtà secondo me ha vinto, almeno io credo e spero che abbia vinto, il tortellino, anche se fosse stato mangiato così semplice, senza niente. Benissimo, Mario, altre due cose brevissime, la prima riguardano in questo caso sempre il menù, perché l'apertura delle serate di queste sfide è stata affidata a un prodotto sempre del territorio, che è la mortadella, avete fatto questo incontro felice e avete creato anche una vostra mortadella a marchio turtlene in qualche modo. Non poteva esserci secondo noi un incontro, un sodalizio più azzeccato di questo, perché noi nasciamo, la nostra associazione nasce per promuovere un prodotto di un territorio. Certo. E abbiamo incontrato il mortadellificio Fersinio, che storicamente la famiglia è bolognese ed è uno dei pochi mortadellifici ancora rimasti a Bologna, per cui è nato questo sodalizio. Che ha appoggiato alla vostra idea. Esattamente, ha appoggiato alla vostra idea e abbiamo creato insieme questa mortadella, selezione turtlene. Che si potrà... Abbiamo fatto tantissime prove insieme. Qui abbiamo... Noi chef abbiamo detto questo prodotto è quello che vogliamo. È quello che vogliamo. È quello che vogliamo. L'avete già fatto assaggiare. L'abbiamo fatto assaggiare appunto nelle serate. È un prodotto che è buonissimo mangiato così, affettato sottile e ancora più buono nel ripieno delle tortelline per le polpette. Ecco. Per cui un grande sodalizio e siamo molto felici di questo. Dopo dall'antipasto salterei subito dopo aver parlato dei tortellini al dolce perché ieri sera e anche nelle altre serate ma ieri sera credo fisicamente avete avuto ospite e avete assaggiato i dolci del campione mondiale della pasticceria italiana il presidente dell'associazione Gino Fabri della Caramella di Bologna che ha prodotto e offerto i dolci a tutti. Anche questo è un bel colpo. Eravamo veramente tutti molto orgogliosi e la sala tutta 400 persone entusiaste per la vittoria appunto portata in Italia alla Coppa del Mondo di pasticceria. Grazie Gino Fabri. Diciamo ancora mi è venuta in mente una cosa la gente che non c'era deve saperlo quanti tortellini si cucinano in queste serate e per quante persone? Diamo un numero che così quanti se ne chiudono? Entre serate Francesco penso che abbiamo fatto da mangiare per circa mille persone. Eravamo in otto considerando che per ogni serata mediamente c'erano dalle 250 alle 300 il conto è presto a farsi penso che si faccia presto 15 kg 12-15 kg a testa quindi si fa presto. La cosa secondo me dai così da portare anche un po' l'attenzione è che noi abbiamo cucinato e abbiamo espressamente quindi una cucina espressa fatta al momento che per noi è sempre la cosa più importante per un numero di persone in tempi molto rapidi è chiaro che non siamo riusciti ad essere perfetti ma questo fa parte della situazione del gioco però questo per me porta un grande valore al nostro gruppo e porta un grande valore alla coordinazione e anche diciamo all'affiatamento che è nato tra di noi perché chi vince vince ma vince comunque non mai da solo. Mario prossimi appuntamenti della società vi riposate adesso un po' innanzitutto tornate ai vostri ristoranti che non hanno dato abbiamo i nostri ristoranti cui sarebbe utile però da dopodomani sicuramente ricominceremo a lavorare abbiamo contatti già con Bologna Welcome in Comune per un prossimo progetto molto molto ambizioso presto ne sentirete parlare quindi siete sempre per il bene della città e del territorio assolutamente ricordiamo che voi fate di tutto questo per raccontare la città e il territorio bolognese di Milano Romagnoli vogliamo creare attenzione maggiore a questa città che se lo merita per far sì che la gente arrivi